Siamo a Campofila di un progetto finanziato sempre nell'ambito di Italia Croazia, Made in Land, che si occupa di gestione e sviluppo delle aree interne e che è uno dei progetti oggetto di capitalizzazione del progetto Boost 5 gestito da Tecnopolis. Siamo molto contenti perché il ruolo che ci è stato assegnato è quello di coordinatore di un pacchetto di attività che è il core delle attività, cioè le temati cluster development. Noi assieme agli altri partner di progetto metteremo in piedi delle attività per capitalizzare i risultati di cinque progetti d'Italia Croazia, condividere le rispettive metodologie, le rispettive innovazioni in tema di valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico e culturale dei nostri e dei rispettivi territori attraverso la leva del turismo sostenibile, attraverso la leva del sviluppo di percorsi, di nuovi percorsi, di valorizzazione delle ricchezze del proprio patrimonio territoriale, molto spesso poco conosciute e poco apprezzate perché localizzate in aree territoriali di difficile accesso. Grazie Grazie Grazie